Luigi Alfieri è già partita la stagione del Beach Volley al Quattrovele, tra l'altro avete ospitato qualche giorno fa la nazionale italiana femminile di Beach Volley, ma quest'estate come sempre e qui da voi ci saranno diverse manifestazioni, tanti tornei per gli appassionati di questa disciplina. Sì, quest'anno che in realtà come stagione è già iniziata, noi abbiamo riaperto chiaramente i nostri corsi dal mini beach agli amatori e ai professionisti, quindi abbiamo riaperto il centro che ha ripreso a pieno regime e abbiamo già ospitato la nazionale femminile di Beach Volley che è venuta a fare un collegiale qui da noi, insomma il nostro è un centro importante e ben attrezzato per cui è il nostro fiore all'occhiello. Poi sono iniziate anche le attività con le tappe nazionali dell'Under 21 e approfitto per citare che insomma sono state fatte due tappe, una a Milano e una a Giulianova e noi le abbiamo vinte tutte e due. Abbiamo il piacere di presentare il nostro nuovo direttore tecnico che è James Martin, un allenatore brasiliano che tanti conoscono, ha vinto parecchi scudetti, insomma è un talento della panchina diciamo. Per cui partendo da questo presupposto poi gli eventi saranno molteplici dai tornei per il mini beach, ospiteremo la tappa nazionale dell'Under 21 e poi una tappa del circuito nazionale Biper che è il nostro appuntamento poi clou che avverrà nella settimana di ferragosto, oltre a tanti altri tornei di livello minore però comunque sempre importanti e sempre aggregativi per lo scopo della nostra associazione.